Si apre una settimana di impegni casalinghi per le due formazioni di Trentino Volley. Gli uomini di soli, reduci dalla sofferta vittoria in trasferta contro Cisterna, sabato alle 20.30 esordiranno sul Mondoflex tricolore contro Taranto, prima di partire per Biella, dove tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre si giocheranno il primo trofeo di stagione in palio, la Supercoppa Italiana. Come abbiamo visto già a Latina, sarà sicuramente un campionato tosto dove questo anno, come sempre, si vuole battere il campione. Quest'anno lo è Trento e dobbiamo essere attenti e pronti che ogni squadra proverà a dare qualcosa di più per vincere o prendere i punti da noi. Le ragazze di Sinibaldi invece sono ancora a caccia del primo punto in questa difficile Serie A1. Domenica alle 17, alla Ilti Quotidiano Arena, si gioca la quarta di campionato contro il Bisonte Firenze. Stiamo lavorando in palestra, siamo pronte per domenica e siamo contenti di ritornare ad allenarci 6 contro 6, nel senso che anche le infortunate stanno tornando pian piano in palestra e questo è un grande aiuto per ottenere un buon ritmo gara. Già dalle partite di sabato e domenica il pubblico di Trento sarà protagonista. I tifosi potranno votare il loro MVP sulla pagina web dedicata dallo sponsor promo.barchetti.it slash trentino-volley. Alla fine della stagione il giocatore del femminile e quello del maschile che saranno stati più votati riceveranno una coppa speciale e un premio in denaro che sarà devoluto in beneficenza alla ASD Ski for Smile, startup per l'inclusione di ragazze e ragazzi disabili. Grazie a tutti.